buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mattedì 31 ottobre 2023 lasciamo il tempo un po perturbato ne parleremo dopo intanto iniziamo la nostra trasmissione con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia ecco la grafica eccolo è santa lucilla di roma santa lucilla visse nel terzo secolo nata cieca nata cieca fu miracolata da san valentino che era il patrono che è il patrono degli innamorati morì insieme al padre entrambi decapitati sotto l'imperatore valeriano anche questa martire dunque morì per la fede cristiana che aveva proclamato santa lucilla di roma ed ora possiamo passare alle previsioni del tempo cambiando la grafica e vedendo come il tempo rimane incerto su tutta la regione marche tempo instabile nella prima parte del giorno con fenomeni più incisivi verso il confine umbro temperature in calo venti moderati le temperature si aggirano tra i 15 e i 23 gradi la mia la massima è un po diminuita rispetto ai giorni scorsi comunque ancora non fa freddo sulle coste i venti ispireranno da una direzione di sud ovest mentre nell'interno da ovest e sud ovest il mare è mosso queste le previsioni del tempo sembra comunque che per la festività dei santi e anche quella dei morti il tempo dovrebbe migliorare quindi dovrebbe attestarsi non ci dovrebbe essere pioggia almeno nella nostra regione ma vedremo poi come il tempo si evolverà e a questo punto diamo un'occhiata al corriere adriatico sulla pagina di fano dove l'apertura è dedicata all'urbanistica abbiamo una dichiarazione del vice sindaco e assessore all'urbanistica cristian fanesi a rischio l'iter del piano regolatore di fano incognita per la nuova legge regionale sull'urbanistica nei giorni scorsi il partito democratico ha organizzato un incontro a gimarra per così discutere sulla nuova legge urbanistica che ancora la regione non ha approvato ma dovrebbe farlo entro l'anno ebbene esaminando il contesto di queste nuove norme l'assessore fanesi ha individuato tre quelle che ha definito tre trappole tre trappole che cosa sarebbero sarebbe tre novità che certamente non vengono gradite al partito democratico la prima si configura come uno strapotere della regione marche fino adesso i anni regolatori erano adottati dal comune poi erano approvati dalla provincia per vedere la loro configurazione con le norme in vigore l'ora in avanti lo saranno anche dalla regione marche che avrà un potere in più per quanto riguarda la configurazione urbanistica dei territori e questa è la prima trappola così come la definita fanesi la seconda si riferisce all'incertezza dei tempi in quanto secondo la bozza regionale spetterebbe poi adesso anche ai comuni approvare i piani attuativi approvare gli interventi singoli per quanto riguarda il piano casa e questo naturalmente farà sì che le lungaggini aumenteranno già gli inter burocratici per quanto riguarda i piani regolatori non sono semplici sono piuttosto lunghi abbiamo la prima adozione da parte dei consigli comunali poi la pubblicazione le osservazioni le contro deduzioni poi abbiamo l'approvazione della provincia poi in futuro probabilmente anche quella della regione insomma veramente il liter è molto molto lungo ora viene anche complicato da questa seconda innovazione che viene contestata dal partito democratico la terza è data dalla facoltà che la regione attribuisce a se stessa di non prendere in considerazione le istanze dei comuni che non siano capoluogo di provincia ancora una volta fanno terza città delle marche con una popolazione superiore a quella di ascoli piceno a quella di macerata quella di fermo che sono province viene penalizzata semplicemente perché non ha il titolo di capoluogo di provincia e questo veramente è una discrepanza potrebbe essere anche una ingiustizia che dovrebbe essere risanata questo per quanto riguarda quanto quanto si profila secondo il partito democratico per il futuro urbanistico della città di fa e poi a fondo pagina abbiamo un articolo di cronaca ieri si è verificato un incendio a in via soncino a santorso l'incendio di un auto era una citroen c3 a bordo c'erano una mamma con una bambina la mamma ha subito notato delle scintille scaturire 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 dal cofano anteriore della macchina l'ha arrestata è riuscita a parcheggiarla al lato della strada è subito scesa con la bambina ha chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti i quali hanno spento le fiamme ma la macchina è stata seriamente danneggiata quasi distrutta sul posto sono intervenuti anche i vigili i vigili urbani che hanno regolato il traffico l'incidente è avvenuto poco prima della rotatoria che è in via soncino auto a fuoco in salvo mamma con bambina e poi dato che siamo a santorso come non parlare del grande evento che si svolgerà in questo quartiere nella giornata di oggi siamo ad halloween siamo ad halloween da brividi a santorso tante tante iniziative ebbene qui c'è un fittissimo programma di iniziative infilate nel contenuto belle storie belle storie perché perché a santorso in passato sono verificate delle brutte storie dobbiamo dire sì perché durante una festa di halloween qualche anno fa ci sono stati così degli eccessi che non hanno fatto affatto che non hanno così fatto onore assolutamente a coloro che hanno partecipato atti di vandalismo sgarbi insomma intemperanze che sono state poi veramente redarguite da tutti insomma tutti hanno criticato quello che è accaduto ecco perché adesso santorso si riscatta con questa bella storia tante le iniziative per fare divertire in maniera sana e sicura i giovani quindi tutti quanti possono oggi pomeriggio sperando nel bel tempo ovviamente andare a santorso dove ci saranno tante tante iniziative da divertirsi ci sarà la pandolfaccia che guiderà nel mondo dei giochi in legno e dei rompicapi tutti i bambini mentre nel campetto da basket di via petri ci si destreggerà tra droni videogame e arti marziali in via pucci alle spalle della piscina sarà allestito il boschetto della paura e poi nella piazzetta del centro commerciale la bottega del trucco un viaggio nel pianeta animale attività con terre ceramiche racconti storie maschere merenda notturno musicale una grande caccia al tesoro insomma ce ne sono tantissime di queste iniziative per fare divertire i bambini con il macabro con il terrore ma è un terrore ovviamente giocoso e allegro giriamo la pagina e parliamo di una iniziativa di enogastronomia importante perché la festa dell'olio a cartoceto è veramente un'iniziativa soprattutto di carattere economico oltre che promozionale veramente importante l'oro verde tra ambiente e cultura la dop di cartoceto s'adegua al clima ebbene questo è un articolo che evidenzia tutte le iniziative che si svolgeranno a cartoceto specialmente in due domeniche il 5 e il 12 novembre ci sarà una kermess dell'oro delle marche ma vediamo il titolo che è con il quale si evidenzia questa iniziativa nel dal dal resto del carlino cartoceto celebra l'olio che non c'è che non c'è sarà comunque un grande festival ebbene l'olio che non c'è perché perché il calo della produzione di quest'anno è del 95 per cento pensate quanto il clima ha influito nella produzione dell'olio quest'anno qui c'è la mosca olearia che così insomma correda i dispetti che si sono fatti agli olivocultori ma il prodotto del 2022 è così eccellente che si può ancora acquistare beh acquistiamo quello dell'anno scorso perché quello del 2023 insomma sarà presa poco introvabile scarsa resa a causa delle bizze del meteo continue variazioni di temperatura hanno determinato una caduta dei fiori e quindi niente niente olive questo per quanto riguarda l'olio passiamo ora a Cagli a Cagli invece c'è una bella notizia perché è stato presentato il progetto del nuovo presidio sanitario che prevede un investimento veramente importante 15 milioni di euro uno degli investimenti più grossi che vengono fatti nel settore della sanità a livello regionale e questo il più grande investimento ospedale e casa di comunità di Cagli l'annuncio dell'assessore Francesco Balbelli alla firma dell'accordo di programma e guardate questo rendering per come sarà realizzata questa nuova struttura sanitaria che sorgerà in località San Lazzaro a Cagli ieri mattina nella sala degli stemmi del comune è stato sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione di questa nuova struttura sanitaria siglato dalla regione Marche dalla provincia di Pesaro Urbino, dal comune di Cagli, dall'unione montana del Catria e del Nerone in più l'azienda sanitaria territoriale, l'AST di Pesaro e Urbino presenti alla conferenza di presentazione il sindaco Alberto Alessandri che ovviamente è stato molto felice di questo investimento sarà un edificio all'avanguardia verrà realizzato il più grande investimento in tutte le marche sarà in grado di garantire la continuità dell'assistenza ospedaliera anche in caso di eventi sismici importanti quindi veramente una struttura solida anche dal punto di vista della costruzione e non saranno intaccati gli attuali servizi del Celli informa quest'ultimo, questo ulteriore articolo a fondo pagina è la garanzia dei distorti dell'AST sulle prestazioni dell'Istituto Santo Stefano giriamo la pagina e siamo a Pergola Ictus, anche qui si parla di sanità Ictus, emergenza e rinascita il racconto delle vite stravolte è un incontro che c'è stato a Pergola dove ci sono state fatte le testimonianze di coloro che hanno attraversato dei momenti veramente bui della propria esistenza le testimonianze di Doriana e Giuseppe nel convegno a Pergola sulla riabilitazione dopo avete subito gli effetti di questa malattia l'Ictus per esempio provoca la paralisi c'è una parte del nostro colpo che diventa inerte a partire dal cervello giù giù fino a tutta una parte anche le braccia, i movimenti, i muscoli e via dicendo diverse le difficoltà a seconda del genere del paziente e ci sono sinergie con Fano e Urbino quindi una testimonianza importante vediamo anche la pagina di Senigallia o almeno per quanto pubblica sull'edizione della provincia di Pesaro Urbino il Corriere Adriatico si parla della banca di credito cooperativo spinta all'alloggio 10 milioni per i giovani e il consiglio di amministrazione della BCC di Pergola e di Corinaldo che ha deliberato in passato un plafond di 10 milioni da destinare per tassi estremamente agevolati agli studenti per acquistare la casa ora a questi 10 milioni se ne aggiungono altri 10 grazie ad un conseguimento di un anno operativo molto felice rispetto al passato quindi c'è una disponibilità di ulteriori risorse e altri 10 milioni vengono inseriti in questo plafond messo a disposizione sempre a condizioni estremamente favorevoli a questi giovani che vogliono acquistare la casa e poi vediamo il trapper Shiva il trappo Shiva la notizia viene da San Benedetto Shiva il trapper che è stato denunciato è stato arrestato rissa con coltello dopo il concerto scatta un secondo arresto per il trapper ai domiciliari anche i suoi quattro amici lombardi la creazione avvenne in centro a San Benedetto del Tronto e dunque dopo l'arresto disposto dalla magistratura milanese altri guai giudiziari per Shiva al secolo Andrea Arrigoni 24 anni già in carcere con l'accusa di tentato omicidio porto abusivo d'arma da fuoco ed esplosioni pericolose per la sparatoria dell'11 luglio nel capoluogo Lombardo a Somma a Milano per l'episodio di fine agosto aveva già ricevuto un daspo urbano di tre anni quindi un trapper insomma che non si occupava soltanto di musica e a questo punto vediamo quello che il Corriere Adriatico ci informa per quanto riguarda Pesaro volevo anzi fermarmi un attimo su un articolo di carattere regionale per così dare un'occhiata alle previsioni del tempo per la festa di domani un'altra burrasca in arrivo ma poi il ponte è al riparo oggi una nuova allerta arancione per le Marche per il vento forte su tutta la regione da domani rischio piogge nell'entroterra sulla costa tempo accettabile teniamoci al riparo del vento e dovrebbe andare insomma tutto bene per questa settimana ed ora vediamo appunto la pagina di Pesaro l'apertura è dedicata alla inaugurazione della nuova pista ciclabile di via Fratti qui vediamo il momento del taglio del nastro del sindaco del sindaco di Pesaro con Biancani il consigliere regionale a novembre i lavori per il rondò in titola il giornale così le auto dovranno rallentare aperta la ciclabile di via Fratti sindaco assessore metteremo in sicurezza anche via Giolitti hanno garantito segnalate poi le difficoltà per chi deve raggiungere muraglia i residenti corsie strette pericolose hanno evidenziato appunto al primo cittadino comunque quella che è stata inaugurata è un'opera strategica che migliora la viabilità ma soprattutto la sicurezza dei residenti la vivibilità del quartiere e dell'ambiente così il sindaco Ricci l'assessore all'operatività Belloni il consigliere regionale Biancani hanno detto al taglio del nastro della pista ciclabile appunto di via Fratti e intanto Pozzi sbotta sul cavalca ferrovia cronoprogramma rispettato ha detto basta parlare di ritardi e incompiute abbiamo accesso anche al FOI quindi un fondo di finanziamento importante arrivano altri soldi per la scuola Anna Franche che sfiora i 4 milioni di euro ma ora bisogna correre perché il progetto deve essere pronto per il 5 dicembre prossimo e poi il Corriere fa un ritorno sull'incidente che si è verificato della strada dei Colli che va su a Trebbio Antico e Novilara sciocche degli amici del giovane padre era solare gioioso e dirompente un ricordo dunque per quanto riguarda Giuseppe Marchigiani che ha perso la vita domenica scorsa mentre con la sua moto percorreva la strada dei Colli non ha imboccato una curva è andato dritto ed è finito in un dirupo e per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare quindi un ricordo per questo uomo che lascia due figli di cui era estremamente innamorato un altro incidente un altro incidente che stavolta si è verificato ieri cade da un'altana un cacciatore fa un volo di 10 metri ed è ricoverato con l'eliambulanza in gravi condizioni all'ospedale di Torrette l'amico dall'allarme trasportato a Torrette nell'ambulanza il volo effettuato in codice rosso un volo di 10 metri per poi piombare rovinosamente a terra gravemente ferito un cacciatore che ieri intorno all'ora di pranzo era impegnato nell'attività venatoria in strada del Boncio si tratta di un 79enne che ha riportato numerose fratture ed era pieno di escoriazioni di ematomi ma nonostante le condizioni gravi appunto del suo fisico non aveva perso conoscenza l'uomo è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Anconetano polizie straordinarie in Viale Trento rimosse 17 auto l'aveva detto l'assessore se continuano a parcheggiare in divieto di sosta dopo un periodo di tolleranza ricorreremo alle multe e così è stato fatto e ieri sono state rimosse 17 auto e quindi per riaverli proprietari dovranno pagare piuttosto soldini i parecchi insomma ecco una una somma non leggera mettiamo da parte ora il Corriere Adriatico e apprendiamo il resto del Carlino vediamo l'apertura dedicata alla pagina di Fano è questa si prende in esame la fondazione Carifano perché domenica scorsa si è svolta l'assemblea dei soci con un plafond di argomenti veramente interessanti c'era l'ingresso di nuovi soci ma c'era anche l'approvazione del bilancio preventivo per il 2024 ebbene la novità è che Palazzo Bracci Pagani sarà intestato a Vangi il grande scultore che ha realizzato per Fano la statua della Concordia di Piazza Amiani Museo Vangi e due milioni da spartire veramente aumenta anche in questo caso come per quanto riguarda la BCC di Pergola ha aumentato il plafond da distribuire che stavolta anche la fondazione Carifano ha maggiori risorse per poter impiegare i fini statutari Museo Vangi due milioni da spartire la fondazione non va da spese ok al documento previsionale è stato approvato all'unamità dall'assemblea dei soci con un più 50% quindi il raddoppio di erogazioni e Palazzo Bracci Pagani ospiterà 70 opere dello scultore ebbene Palazzo Bracci Pagani diventerà Museo Vangi e sarà la novità della fondazione Cassa di Risparmio di Fano per il 2024 il prossimo anno potrebbe concidere anche con l'apertura al pubblico del Piano Nobile di Palazzo Zagarelli Borgogelli questo palazzo del 1700 che nel Piano Nobile conserva veramente l'aspetto dell'epoca con mobili arredi e tutta l'atmosfera delle declarazioni dell'epoca del Drococò del Barocco la secola dell'epoca anche dei Lumi questo palazzo veramente è uno scrigno un'atmosfera del passato e poi vediamo che sono state il bilancio di previsioni è estremamente positivo le erogazioni passeranno da 1.325 milioni di euro sarà 1.325 del 2023 a 2 milioni sì 1 virgola qui c'è un punto ma 1 virgola è 1.325 mila euro del 2023 a 2 milioni con un incremento del 50% per il 2024 pensate che solo sette anni fa le erogazioni si erano ridotte a 730 mila euro veramente un incremento considerevole per quanto riguarda la rinascita della economia della fondazione vediamo anche chi sono i nuovi soci i nuovi soci sono Luciano Cecchini presidente della Federalberghi Claudio Gabellini l'imprenditore Odino Zacchilli presidente del centro studi Vitruviani e poi ci sono stati altri ingressi su nomina degli enti Caterina del Bianco ordine degli architetti Lorenzo Ascani comune di terre roveresche Francesco Angeloni comune di Monteporzio Gianluca Vitali il comune di Fano e poi sono stati confermati per il secondo mandato Francesca Cesaroni nominata dalla Università di Urbino Paolo Clini Università Politecnica delle Marche Michele Del Vecchio e Tommaso Di Sante da parte segnalati dalla Camera di Commercio questi suono appunto le conferme e i nuovi ingressi nella Fondazione Carifano e per quanto riguarda la piscina ebbene per quanto riguarda la piscina forse se ne riparlerà a Natale a Natale ci dovrebbe aprire questo bellissimo impianto che è stato realizzato nei pressi dell'aeroporto e troviamo ancora la figura del Vice Sindaco e Assessore dell'Urbanistica Cristian Fanesi in questo articolo dell'Arresto del Carlino perché si riparla dei fanghi del porto e della assicurazione che l'autorità di porto ha dato al nostro comune per il trasferimento dei fanghi che sono sulla banchina del porto e sull'area di Fantasy World di Torrette e poi una iniziativa la fotografia contemporanea a Palazzo Malatestiano è un progetto questo del comune che si aggiudica un finanziamento di 101 mila euro per costituire un museo della fotografia all'interno del Palazzo Malatestiano 101 mila euro per acquisire le fotografie dei più importanti fotografi a livello nazionale grazie alla collaborazione con Centrale Fotografia e siamo in conclusione vi segnalo anche sul resto del Carlino Halloween a Sant'Orso streghe vampiri e divise e divertiamoci con il macabro e questo è tutto per il momento per l'informazione vi consiglio di seguire il Tg di Fano TV questa sera alle ore 20.30 e domani non c'è la rassegna stampa ne riparleremo il giorno successivo grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti